L'assessore al patrimonio Andrea Mazzillo promette soluzioni a breve. Credo che già domani verrà depositata questa bozza di regolamento. Saranno sfrattati oppure no? Con la norma transitoria questo problema si risolve. Quindi nel momento in cui il regolamento verrà approvato dall'Assemblea Capitolina ci sarà una procedura di regolarizzazione su istanza di parte. Carla Manzocchi, GR3